Bene, Edward! Il punto d'incontro è oltre quelle colline in lontananza! Fai attenzione a quel villaggio! Bene, ragazzi! Pronti? Si va! Pianco sinistro! Carri catturati entrano nel villaggio! Occhio, ragazzi! Siamo ben oltre le linee dei cruchi ora! Non possiamo sapere cosa ci aspetta! Ma che pensiero piacevole! Forza, ragazzi! Abbiamo letto fin qui! Dobbiamo di non cedere proprio ora! Bess ci ha portato fin qui e ci farà arrivare fino in fondo se faremo la nostra parte! Alla prossima! Versaglio! Sfiggiamolo! Così, così, ancora! Quel piccolo bastardo non ci scappa! Siamo nella merda, ragazzi! Dobbiamo rimpiegare! No! Alziamo via quella batteria! Sfiggiamolo! Sfiggiamolo! Siamo a posto, muoviamoci! Diamogli una lezione! Allora, cari crocchi, mi piace? Non devono portarsi fuori tiro! Stagli addosso, Edwards! Spari bene, McManus! Avanti, Bels! Non è stato distrutto! Dagli una lezione! C'è uno scalo ferroviario! Ti copro io, Edwards! Porca troia! Muovi qualcuno, Edwards! Non c'è uno scalo che uno scalo! Cannone da capo, attenzione! Sono carne da macello, falciavoli! Occhio alle linee di tiro! Carro leggero, mantenere la linea di tiro! Bene ragazzi, non rilassatevi! Non rilassatevi! Non rilassatevi! Non rilassatevi! Non rilassatevi! Battaglia in arrivo, eliminiamoli! Tieni duro, piccola. Ormai non manca molto. Ormai non manca molto. Non allontanarti, li copriamo noi figli a loro. Vedi di rimettere in testo best. Non è la tannata ora del tè. Continuiamo a sparare! Truppe nemiche hanno scoperto! Uccidiamoli! Passi! 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 I suoi! Che cosa è che? Es gibt un paio di Eccordi! Il preparato è stato fatto! Voi! 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 Che! 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 Sì. Non sapete fare di meglio! La distanza è giusta! Bravissimo, McManus! Attenzione! I carri FD sono veloci! Cerca di non rallentare! Piano, piano! Sì, carro distrutto! Gruppo nemico in arrivo! Io dico di filarcela fino a Cambrai, usando la strada principale. Loro arriveranno proprio da là. Edwards, trova una posizione da dove possiamo colpirli appena spuntano. Grazie a tutti! presto incopriremo noi questo era per prigia scruciate crucchi bastardi pilota niente scossoni in linea con quel carro leggero ancora un colpo presto portamelo nel mirino portamelo nel mirino brucia bastardo portamelo al tacco liberiamo il barco il piccolino si muove ancora ecco come si fa bel lavoro ma non munghiamoci la testa brucia il contrattacco presto ne arriveranno ancora allora teniamo duro e combattiamo lasciamo che best faccia quello che sa fare meglio porto il il porto il porto Fortezza se muovete! Portami a tutti! Forza, Edwards! Fa qualcosa! Ottima mira! Entriamo lì di nuovo! Abbiamo sistemato! Ora pensiamo al prossimo bersaglio! Occhio! Distanza perfetta! Portata c'è! Granate! Via, via! Ma è il colpo! Per colpo, McManus! Avanti, Bess! Non mollare proprio adesso! Portamelo nel... Buon Dio! Un A7B! Viene terrore in McManus! Viene di sotto se sei costretto! Edwards, continuiamo a boverti! McManus aspetta di averlo nel mirino! Non dobbiamo sbagliare! Prendi questo, cronco bastardo! Cazzo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'hai fatta, ragazza! Prossima fermata, cazzo! Signore? Edward, andiamo! Oh no! Non pensare di poter crepare proprio adesso! Sto bene, ragazzi! È che vi sono divertito troppo! E ora... … È... ... ... ... Artegneria! Guida, guida! Gli uomini, gli uomini, gli uomini! Gli uomini, gli uomini! Chi riparano? Ci capirò io! Non ci vencerò io. Ci vencerò io. Tutto bene, Edward. Sì, vabbè! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Andiamo a piedi. All right. 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 All right.